Queste iniziative sono iniziative importanti, molto importanti perché fanno conoscere all'interno della filiera quali sono le difficoltà dei vari settori. Come ho detto e come dico, da molto tempo non se ne può più di cercare i capri espiatori. In questa è una filiera povera che ha bisogno, non esiste settori che abbiano più benefici di altri, non è assolutamente così. Capisco che sul piano della comunicazione faccia comodo trovare sempre un responsabile ma purtroppo non è così. Creiamo valore soprattutto sui prodotti che vanno all'estero, è evidente che quando si parla di sementi è molto importante soprattutto orientarla non solo alla quantità che è un ruolo istituzionale che gli aspetta ma soprattutto anche a dare una risposta per quel che riguarda le qualità delle varie varietà perché il mercato a valle è molto cambiato in questa direzione.